Le mani, le sue, e poi ancora un'altra volta noi due. Questo è un verso di una canzone che canta Patti Bravo, Pensiero Stupendo. E' scritta da Ivano Fossati. Le mani, le sue, e poi ancora un'altra volta noi due. Questa mania per le mani, questa ossessione per le mani. Io ce l'ho, non so te, ma mi piacciono molto le mani, perché sono molto espressive. A volte con la bocca si dicono cose, ma con le mani si smentiscono, si dice esattamente al contrario. E uno allora si concentra sulle mani e guarda le mani per capire meglio cosa stia dicendo l'interlocutore o interlocutrice. Sì, perché sarà una mia mania, la mania delle mani, ma ripeto, ho fatto caso tante volte che ci sono affermazioni magari che non scaturiscono limpide e la mano, tac, è un gesto che dice esattamente al contrario. Dico, beh, allora stavi pensando così. Poi le mani sono belle, le mani possono carezzare, possono anche schiaffeggiare, anche graffiare, chiedendo aiuto alle consorelle unghie. Possono anche comunque consolare una mano di una mamma che sente la temperatura corporea del figlio, è un ricordo molto dolce. Il contatto con la mano di chi si ama, almeno in pienissima gioventù, poteva dare sensazioni molto forti. Poi purtroppo magari, ecco, è triste dirlo, ma anche questo cala, anche questa sensazione diventa quasi un'abitudine. è sempre bello comunque riconoscersi con le mani, al buio, come gioco, anche come gioco erotico. Tutte e due occhi chiusi, ci si cerca con le mani, ci si sente, ci si percepisce. Che bella emozione. Vabbè, adesso non voglio scendere nel particolare, perché poi magari uno dice che sono volgare perché penso delle cose, ma non è volgarità, è vita, è vita che se ne sta andando molto velocemente, molto dannatamente, e sono manie, manie delle mani. C'è chi dice feticismo, ma io non voglio mettere queste etichette, non mi piacciono le etichette. Le mani, le sue, ancora poi un'altra volta noi due. E beh, insomma, fossati un poeta, la patti bravo a questa voce così misteriosa, questo atteggiamento fatato, magico. Eh, insomma, anche l'arte la dice lunga. Poi alcuni scultori hanno scolpito mani bellissime. C'è la Paulina Bonaparte del Canova che ha delle mani delicatissime. La mano del Davide del Bernini è una mano pronta, forte, virile. Poi ci sono le mani innocenti, magari degli angeli, ci sono le mani della Madonna che appunto sostiene il figlio, oppure le mani malandrine delle donne di Rubens, o le mani simpaticamente cicciottelle delle persone, uomini e donne del Botero. E poi c'è la vita. Ci sono persone che ci hanno affascinato proprio per le mani. Eh sì. Io mi ero innamorato di una persona che aveva delle mani stupende, veramente. Io non ho delle belle mani, però so che sono coordinate col mio pensiero, nel senso che quello che dico con la bocca corrisponde sempre a quello che dicono le mie mani. e ti dicono che sei sfacciato, ma non è sfacciataggine. E coerenza, ragazzi, la vita che sia pure una mania delle mani, ma ripeto, io sono contento di me. Certo, se facciamo una battuta maliziosa, la mano è anche la masturbazione, molto condannata dalla nostra religione di Stato, che ci ha informato che questo è un peccato. E informando che questo è un peccato è diventata un'informazione deformata. E deformando tanti si sono conformati a tanti stereotipi. Ma non voglio cominciare la polemica, che tanto mi piace fare il polemico. Probabilmente il mio ascendente. Io sono un verginiano, ascendente scorpione. E lo scorpione, quando tenaglia, la sua tenaglia è anche velenosa, ma è velenosa a ragion veduta. Ecco, diciamo così, che non è campata per aria. Poi si dice, appunto, dare una mano di vernice, darsi una mano, aiutarsi l'un con l'altro. Il valore che io attribuisco in modo assoluto alla solidarietà, all'amicizia, alla fratellanza. La famiglia molto spesso è quella degli amici. La famiglia d'origine a volte fa dei danni abbastanza inguardabili, sì, un lapsus freudiano. Volevo dire, inguaiare, mettere nei guai, mettere nei guai figli, nipoti, un padre che non capisce le cose, è antico, che lui si fantava, che faceva le man, ha fuma una man, che vuol dire fare l'amore. Io, forse, appunto, sono il figlio più poetastro, dico fare l'amore. Ecco, però tutto passa. E c'è una canzone bellissima, stupenda, che si chiama Amano Amano di Rino Gaetano. E beh, io adesso non sono capace a cantare, però la consiglio di andarla a cercare. Sicuramente c'è su YouTube. Ma vabbè, adesso vi saluto, torno alle mie mansioni e boh, una mano lava l'altra ed entrambi lavano il viso. Grazie.